Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, oggi voteremo per la legge numero 42, chi è a favore? 2, 3, 4, 5, 6, 6 su 10, la maggioranza è ad accordo, chi è a favore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bene, chi è a favore? Siamo tutti d'accordo?